Gli amici a quattro zampe a Montesilvano avranno la loro spiaggia privata almeno fino al 26 novembre. Il tratto loro dedicato è quello a nord dello stabilimento Sabbia d'Oro all'altezza della Stella Maris. Un'iniziativa che l'amministrazione dei Martinis ripropone ogni anno con le stesse modalità ma che di fatto fa notizia ogni volta perché chi ha un cane vuole portare fido dove vuole vive l'ordinanza del sindaco come un limite. 35 metri lineari fronte mare rappresentano uno spazio dignitoso per far scorrazzare il cane in lungo e in largo e che potrà anche fare il bagno fino a spingersi un po' oltre visto che il limite previsto arriva a 33 metri di profondità. Con tutto il rispetto per gli amici a quattro zampe che per anno avranno una spiaggia a loro riservata il nostro mare non ha delle caratteristiche o soprattutto le nostre spiagge non hanno caratteristiche come quelle che hanno città Vedi Riccione, Vedi Rimini dove i tratti di spiaggia sono molto più importanti e quindi ricavare uno spazio da destinare agli amici a quattro zampe non è facile perché i nostri stabilimenti sono tutti in qualche modo contigui l'uno con l'altro gli spazi sono davvero esigui se consideriamo che negli anni l'erosione purtroppo ha eliminato tanta spiaggia comunque ripeto abbiamo una spiaggia a loro destinata e come negli anni insomma i proprietari che vorranno portare i loro cani a scorrazzare sulla nostra spiaggia insomma ci sarà spazio anche per loro. Dal 2019 viene ribadito un vademecum utile a non incorrere in sanzioni che possono arrivare a 1000 euro tra le regole occhio al libretto delle vaccinazioni ed è meglio evitare di portare in spiaggia a cani senza microcipo o tatuaggio fissate nelle regole scritte a scanso di equivoci anche alcuni comportamenti che dovrebbero essere ormai acquisiti ad espressione di civiltà come rimuovere le eventuali deiezioni e rispettare i vicini prendendo come riferimento poco più del perimetro del proprio ombrellone.